Bene, buongiorno a tutti, grazie veramente per questo invito perché è importante sempre comunque oggi quando parliamo di lavoro, lavoro in generale, pensioni, ma pensioni e lavoro, perché? Perché se non c'è il lavoro non c'è la pensione e se non c'è il lavoro non c'è il futuro. E non c'è quale futuro? Il futuro delle imprese, il futuro dei giovani, il futuro delle famiglie, il futuro dei lavoratori e quindi questo è un argomento che la politica, la futura politica dovrà prendere assolutamente in considerazione perché per poter arrivare a delle riforme che siano strutturali, riforme organiche. Perché dico questo? E partiamo dalle pensioni, voi tutti conoscete, è inutile che sto qua a farvi perdere tempo sulla riforma Fornero, la riforma Fornero non è una riforma, guardate bene, la riforma Fornero è un intervento che è stato fatto nel 2011, a dicembre 2011, in occasione del Salve Italia, che aveva come obiettivo fare cassa, quindi non è entrata nel merito, non ha fatto cassa, ha creato dei danni importanti, non ha aiutato il sistema delle pensioni, né tanto meno i giovani e i meno giovani. Quindi non è stato un intervento sicuramente risolutivo da questo punto di vista. Ecco perché oggi ci troviamo, ed è importante e determinante oggi, parlare di una vera riforma delle pensioni, ma che deve essere legata a un'altrettanta riforma del mercato del lavoro. Inevitabilmente deve essere preso in considerazione questo aspetto, ma perché? Perché oggi un intervento e un'iniziativa legislativa deve essere circolare, deve andare a colpire tutti i temi che avete ascoltato oggi con grande sapienza. I temi della competitività delle imprese, i temi della famiglia, i temi dei giovani, i temi dei lavoratori, i temi dell'innovazione e della fiducia da ultimo. Anche questo è un aspetto molto importante che può portare sicuramente a inserire e introdurre nel nostro mercato iniziative e legislazioni stabili, e le legislazioni stabili sono legislazioni strutturali organiche. Ecco, quindi, tornando un secondo alla pensione, abbiamo visto la riforma Fornero. La riforma Fornero non è una riforma, è un intervento. È un intervento che ha allungato l'età pensionabile. Quindi, ancora oggi, ci troviamo di fronte a questa problematicità. Questa problematicità che comporta, per esempio, i giovani non vedere la pensione, allungare l'età pensionabile e quindi spostare semplicemente il problema. Il problema è che si ingigantisce sempre di più. Quali sono le criticità di questa riforma, chiamiamola per semplicità riforma? Le criticità sono tante, perché sono criticità che hanno portato a individuazioni di fattori rischio. Fattori rischio che vi sono stati, poi, tutto sommato, accennati in precedenza. E sono la salute precaria, la mancanza di... la bassa efficienza, la bassa produttività, la scarsa mobilità infragruppo, ma è naturale, perché se uno arriva vicino ai 70 anni, non ha più quella forza, quel vigore che hanno i giovani. Il blocco del rinnovamento, questo è fondamentale, il blocco del rinnovamento. Questo si blocca. La perdita dei talenti. Quindi, vedete, tutti elementi assolutamente negativi. Questi elementi negativi si aggiungono anche a recenti interventi. E di questi giorni, l'introduzione, proprio perché ce n'era bisogno, l'introduzione di istituti nuovi, quali l'APE, che sono RITA, APE e RITA, sono due istituti pressoché sconosciuti, già la terminologia fa preoccupare, ma sono già sotto l'occhio della UE, perché si ritengono non propriamente architettati, ma sono interventi sostanzialmente relativi all'anticipo della pensione attraverso la rateizzazione. Ma questo anticipo della pensione attraverso la rateizzazione costerà tantissimo, costerà talmente tanto, al punto tale da essere impraticabile. E quindi questo bloccherà ancora una volta il passaggio, le nuove generazioni, blocca il mercato del lavoro in generale. E questo non può che far male al mercato del lavoro attuale, visti i tempi che stiamo attraversando. Quindi quali sono gli obiettivi di una riforma, di un nuovo sistema pensionistico che sia coerente alle dinamiche del mercato del lavoro? Beh, gli obiettivi si possono indicare nei seguenti, offrire sicuramente una maggiore flessibilità d'uscita dell'azienda, combinando però l'età anagrafica e l'età contributiva, proprio questa l'età contributiva che era stata abolita dalla riforma Fornero, malamente. Ma poi bisogna permettere anche il corretto ricambio generazionale, assicurando all'azienda un mix equilibrato tra esperienze e nuovi lavoratori potenziali. Il ricambio generazionale oggi è una parola d'ordine, altrimenti non si va più da nessun'altra parte. E poi infine garantire un impiego ottimale delle risorse economiche aziendali. Per far questo le aree di intervento quali possono essere? Potremmo individuarle in due macro aree di intervento, tutte poi da declinare e da affinare. Ma sicuramente consistono nell'incentivare la previdenza complementare, specie per i giovani, favorendo però tramite i contratti collettivi l'adesione generalizzata dei lavoratori ai fondi pensioni, ai fondi integrativi. E poi consentire la totale deducibilità, o quantomeno quasi totale, deducibilità degli anni di riscatto, della laurea e del diploma, con l'obiettivo di anticipare il pensionamento previsto dalla normativa vigente, sbagliato, ma senza impatti negativi per il lavoratore e soprattutto per i giovani. Ecco, questi sono i punti fondamentali sulla riforma della pensione che si potrebbe vedere. Riforma, ripeto, strutturale, organica, seria, che darebbe fiducia al tessuto industriale, occupazionale e quindi di conseguenza non potrebbe che avere successo. Ma arriviamo velocemente anche al lavoro, perché se non c'è lavoro non c'è pensione, se non c'è lavoro non c'è futuro. Tutto ruota intorno al lavoro. La nostra vita gravita, nasce, cresce e progredisce intorno al lavoro. E oggi perché ci troviamo ancora a parlare di lavoro? Perché? Perché abbiamo degli interventi, gli ultimi, che sono di fatti, che non servono a granché. Sono stati interventi, si tratta di interventi temporanei, fini quasi a se stessi, e lo abbiamo sotto gli occhi di tutti, pensate soltanto al Job Act. Il Job Act quando ha funzionato? Ha funzionato fino a dicembre 2015. Perché? Perché l'iniezione economica, il bonus occupazionale era totale. E i dati che voi vedete, che vi vengono rammostrati pubblicamente, sono tutti quelli relativi fino al dicembre 2015. Perché non vi dicono dei dati che sono relativi al 2016? Perché non conviene? Perché quali sono i dati del 2016? Il primo trivestre del 2016, l'osservatorio della città metropolitana di Milano, quindi bacino importantissimo Milano, dove ruota e nasce l'economia del nostro paese, i primi tre mesi del 2016, città metropolitana registra un decremento del 25-30% delle assunzioni a tempo indeterminato. Questo ve la dice lunga. Su quanto ha avuto efficacia il Job Act nel nostro paese? E quanta efficacia potrà avere? Poco o niente perché? Perché nel 2016 il bonus è andato al di sotto il 40%, nel 2017 sarà al di sotto quasi il 20%, quindi totalmente inesistente, inutile. Inutile. E da questo punto di vista, l'Ocse, proprio ultimissimi oggi, dati d'oggi dell'Ocse, è impietoso da questo punto di vista, perché dice che l'Italia è un paese stagnante, proprio in punto di lavoro. È un paese stagnante. In Italia è calata, la produttività è calata del 1,5% confronto ai paesi dell'Eurozona dove invece è cresciuto. Sono cresciuti i salari, ma perché è cresciuta la produttività. Qui no, niente. E quindi, altri dati importanti per capire cosa fare, perché bisogna senz'altro fare qualcosa a tal fine e inevitabilmente saremo chiamati a intervenire dal punto di vista organico. Alcuni dati. In 15 anni, velocissimo, in 15 anni il nostro costo del lavoro è aumentato del 30% rispetto alla Germania. La disoccupazione, inutile dirvi, continua a crescere. Il legislatore attuale cosa sta facendo. Punta moltissimo su alcuni interventi inutili. Quale, ad esempio, proprio perché abbiamo bisogno di politiche attive del lavoro, crea l'AMPAL, l'Agenzia Nazionale sulle Politiche Attive. Ecco, crea un'ulteriore carrozione che va a fare che cosa? Va a colpire le regioni che funzionano, spogliandole del loro potere, valorizza, tra virgolette, i centri per l'impiego, e poi vi dirò quali sono i numeri di efficacia dei centri per l'impiego, depotenziando, come dicevo prima, le regioni. E quindi, accentrando ancora una volta le politiche attive in Italia, quando le politiche attive in Italia devono essere studiate, implementate ed eseguite dal territorio. Ma come fa Roma a sapere quali sono le esigenze del territorio lombardo, bergamasco, emiliano, trentino, e via dicendo, non lo può sapere. E non lo saprà mai in tempi veloci. Questo perché? Perché questi interventi legislativi devono essere contestualizzati, devono servire oggi, non devono servire fra sei anni. Fra sei anni non sappiamo che cosa avrà bisogno il nostro paese, il tessuto industriale, il tessuto occupazionale. Pensate a questo, i centri per l'impiego. In Italia ci sono 550 circa, centri per l'impiego, e cubano quasi 10.000 impiegati statali. Quindi un costo importantissimo. Ma qual è il goal di questi centri per l'impiego? I centri per l'impiego dovrebbero andare incontro alla domanda offerta e lavoro. Quindi cercare di aiutare i giovani a inserirsi in un mercato del lavoro, ma non inserirsi one shot, così, tanto per fare, a inserirsi con successo, quindi con gratificazioni professionali e personali di questi giovani. Bene, dati IMSS, il goal dei centri per l'impiego è pari circa al 3,1%, ma questo non negli ultimi sei mesi, da decenni. Allora, se fosse un'azienda privata, sarebbe automatico tirare giù la Claire e dire facciamo qualcos'altro. No! Il nostro legislatore dice proprio perché funzionano così bene, andiamo a aumentare le risorse umane nei centri per l'impiego. Quindi l'Ampa, la famosa Ampar, da 10.000 dipendenti statali probabilmente raddoppierà, chi lo sa. Ecco, questo perché a critica viene risposto, ma in Germania funziona benissimo, certo, in Germania il goal è dell'85%, che è un po' diverso dal 3,1%, e quindi è tutto un altro film. Questo solo per dirvi quanto c'è bisogno di intervenire oggi, ancora di più oggi, dati i tempi, sotto il profilo delle politiche del lavoro. Ultimo aspetto, e poi chiudo, ultimo aspetto qual è? Che cosa, quali sono i, c'è un aspetto importantissimo, abbiamo da vedere, il gap scuola-lavoro, ormai il fil rouge di questo incontro veramente molto costruttivo, molto interessante, è sempre quello incontro ai giovani, ma i giovani devono inserirsi nel mercato del lavoro e devono inserirsi bene, quindi bisogna dargli delle prospettive ai giovani, anche non solo ai giovani. E come gli ridiamo? I giovani sanno che cosa li aspetta fuori? No, sanno poco o niente. Perché? Perché il tessuto imprenditoriale non va a scuola a dirgli quali sono i nuovi mestieri, ma i nuovi mestieri ci sono, bisogna andare a insegnarli, e quindi questo vuol dire eliminare o ridurre quasi totalmente il gap scuola lavoro. Beh, dati di Assolombarda, vi riporto perché sono importanti indicativi sul punto, dicono che il 20% del lavoro negli ultimi tempi è venuto da aziende che hanno meno di 5 anni, quindi pensate a come cambiano le aziende e che volatilità hanno. Ma ancora di più importante è questo, il 40% dei giovani ha trovato un posto con l'innovazione digitale, con l'innovazione digitale, e quindi questi sono gli aspetti da toccare. E allora, chiudo, di cosa c'è bisogno anche sul lavoro? Beh, senz'altro c'è bisogno di interventi strutturali seri, spendibili, esigibili oggi, quali? Il costo del lavoro, il costo del lavoro lo vedo come una flat rate che strato si sposa molto bene con la flat tax e darebbe sicuramente un'accelerazione fortissima a un mercato del lavoro moderno, attuale, contestuale che vada a intercettare con successo le esigenze, il fabbisogno del tessuto imprenditoriale e a questo punto crea un circolo virtuoso in relazione all'occupazione, occupazione stabile, occupazione sana, occupazione di successo. Ma a questo si deve senz'altro aggiungere anche la semplificazione burocratica. È fondamentale, un dato per tutti. Pensate che una start-up oggi costa a un imprenditore in termini di adempimenti burocatici il 30% del suo tempo. Vuol dire che l'imprenditore oggi perde il 30% per star dietro ad adempimenti burocatici. Ma chi oggi se lo può permettere? Ultimo aspetto è la meritocrazia retributiva. Basta, ormai parliamo di produttività, di meritocrazia, a questo dobbiamo andare incontro. Questi sistemi, queste tecniche, tecniche giuslavoristiche e legislative devono essere veramente prese in considerazione e perfezionate. E per chiudere naturalmente il gap scuola lavoro che deve essere colmato. Chiudo soltanto dicendovi cosa, prima è stata richiamata la fiducia, beh, certamente, le riforme strutturali, riforme organiche porteranno fiducia e la fiducia porterà il nostro amato paese comprensivo di imprese e lavoratori a correre veramente. Grazie. 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 Grazie.